Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano due chilometri di code a tratti per lavori tra l'allacciamento con il raccordo Lucca-Viareggio e Velsilia, in direzione Genova. In direzione Pisa, code sul bivio A1-11, provenendo da Roma e provenendo da Bologna, e in A11 tra Firenze-Ovest e Prato-Est. In A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio. Code per lavori in uscita a Firenze-Sud, provenendo da Bologna. Sulla FIPILI per lavori in direzione Firenze, 3 chilometri di coda tra Lavoria e Ponte d'Era-Est, 2 chilometri di coda tra Cascina e la diramazione per Pisa. Su quest'ultima tratta, incidente al chilometro 58 e 200, sempre verso Firenze e code tra Scandici e Firenze-Scandici. Ancora in FIPILI, code in uscita a Cascina, provenendo da Pisa. Code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!